Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Si ricorda che fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia resterà chiusa a Pisa in corrispondenza del bivio per Coltano tra i chilometri 329 e 450 e 329 e 500 per lavori di ricostruzione del cavalcavia danneggiato la scorsa estate da un mezzo pesante fuori Sagoma. A Firenze oggi alle 18.30 si giocherà Fiorentina-Torino per i provvedimenti di circolazione nella zona dello stadio Artemio Franchi, info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!